ben trovati amici di AMG Channel siamo qui al Palace con il coach Massimiliano Ortenzi Massimiliano si è chiuso il girone di andata del campionato a due gradenbanca girone blu eh con una vittoria a Tuscania importantissima dei nostri ragazzi vittoria che ci porta al quarto posto e alla fase finale di Coppa Italia quindi diciamo che per questa prima parte del campionato il 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 risultato è abbastanza soddisfacente sicuramente bilancio è buono abbiamo detto di fare di fare in attimo il punto della situazione alla fine del girone di andata e devo dire che ecco essere quarti comunque eh avendo espresso per larga parte di questo girone un buon una buona palla a volo aver fatto un buon risultato a Tuscania è stato comunque una un segnale importante dopo tre sconfitte e diciamo che il bilancio è positivo e il campionato ci sta dicendo che comunque verso l'alto c'è molto equilibrio ci sono tante squadre che lottano per le prime quattro posizioni dovremmo essere bravi nel girone di ritorno a fare quanto di buono abbiamo fatto vedere in quello d'andata cioè quello di prendere più punti possibile contro tutti aspettando insomma di magari riuscire a giocarci una parte di campionato al completo sarebbe insomma una bella una bella cosa ecco ecco appunto domenica alle diciotto arriverà Cisano Bergamasco e quindi anche questa è una partita contro una neopromossa che sta faticando nell'inizio di campionato ma sicuramente verrà agguerrita per portar via punti qui dal Palace ci sono una squadra neopromossa che però ha delle qualità una squadra che comunque gioca una buona palla a volo ha cambiato poco rispetto all'anno scorso una squadra che sbaglia poco una squadra comunque che dovremmo essere bravi a mettere sotto con l'aggressività giusta con l'aggressività giusta al servizio e con l'attenzione nello sfruttare tutte le occasioni che ci si pongono davanti ma soprattutto cercando di di essere come siamo stati a Tuscania cioè squadra che nella difficoltà si è saputa compattare un pochettino squadra che ha difeso molto squadra che comunque si è attaccata a tutti quanti i palloni e questa deve essere la nostra la nostra caratteristica di qui alla fine del campionato poi c'è di mezzo insomma questo quarto di finale di Coppa Italia che siano contenti di giocare perché comunque è un'esperienza è sempre un'esperienza importante no giochiamo contro Brescia che è la leader dell'altro girone quello sarà insomma una partita in cui ci dovremo divertire a fare a fare la palla a volo con la testa libera però su tutte le altre dobbiamo star lì con la bava la bocca e guadagnarci più punti possibile e noi siamo qui a tifarvi con tutto il sostegno del pubblico perciò vi aspettiamo alle 18 domenica MG VIDEX Cisano Bergamasco perché i sogni si costruiscono a due stringiti al cuore della MG VIDEX